Prefettura e Comune di Trieste hanno formalizzato, mettendo nero su bianco, tutte le procedure utili alla gestione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. La firma della convenzione venuta oggi in municipio comporta per il Comune l'apertura all'ospitalità di 20 persone nell'ambito del sistema di accoglienza per richiedenti di protezione internazionale, con la disponibilità degli alloggi in gestione al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali. Così facendo saranno garantiti, tramite appositi bandi a soggetti terzi, vitto e alloggio, orientamento, accesso ai servizi del territorio, mediazione linguistica e culturale e informativa legale. I destinatari dei posti messi a disposizione dal Comune inizialmente presso una struttura collettiva o piccina sono nuclei familiari composti in prevalenza da madri con figli minori, tra i quali diversi disabili arrivati a Trieste in seguito all'operazione Trieste a braccia Micolaiv. Prevalentemente stiamo assistendo ad un grande numero di mamme con bambini con disabilità importanti. Il burlo, che chiaramente da un punto di vista geografico è molto vicino al confine, è sicuramente un elemento di attrazione e quindi noi siamo assolutamente lieti di poter dare una risposta non soltanto sanitaria ma anche una risposta di una comunità che accoglie queste famiglie perché è vero che bisogna dare un supporto sanitario, però dopo la giornata è lunga e soprattutto si svolge fuori. Quindi noi adesso ci stiamo già adoperando per inserire questi bambini nelle scuole, stiamo cercando di inserire queste mamme nel territorio, certamente l'augurio è che questa guerra finisca il prima possibile perché è una tragedia che ci ha davvero molto colpito e come tutte le tragedie, va data una risposta laddove questa si può fare.